Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovo video. Sfondo verde perché parliamo di energia e in particolare modo oggi vi presento questo prodottino che sto provando in realtà da qualche mese ed è la EcoFlow River 2 Pro. Farò anche un piccolo confronto con la Bluetti perché ne vale la pena, anche perché a 360 gradi sono due prodotti ottimi, ma ciascuno ha qualche piccolo pro e qualche piccolo contro che secondo me vale la pena valutare. La vedete, io l'ho provata insieme al suo pannello solare, le critiche sono più per il pannello che per il prodotto, ma prima di continuare due raccomandazioni, vi ricordo che per monitorare il prezzo più basso ci sono gli sconti per il Natale di EcoFlow per cui si riesce a risparmiare davvero tanto, vi lascio il link qui sotto nella descrizione e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto in modo da supportare il mio lavoro. L'unico modo che avete è totalmente gratuito e a me fa davvero la differenza. Vediamo subito quali sono le principali caratteristiche e come è fatta. Partiamo però subito dal prezzo, così ci togliamo subito il dentino. Prezzo di listino della sola batteria 799 euro, il sconto la trovate a 679 euro, prezzo per la combo tra batteria e pannello da 200 watt 1298 euro, senza sconti, il sconto li potete acquistare a 1108 euro, per cui diciamo che è allineato con la concorrenza per questa tipologia di power station. Le power station, come vi ho già spiegato, sono praticamente delle enormi power bank che però hanno qualche caratteristica in più. Vediamo però subito come è fatta la power station. Mettiamo un attimo da parte il pannello solare, perché rispetto alla bluette è un po' più piccola, un po' più compatta, infatti pesa quasi 2 kg in meno, nonostante l'alimentatore sia interno. Ve lo faccio vedere nella parte posteriore. Vedete, qui c'è l'ingresso come quello dei nostri PC e questo è il cavo, non c'è un alimentatore che dovete portarvi dietro. Questo può essere sia un pro che un contro, nel senso che ovviamente è molto più facile prendere uno di questi cavi, anche se non per forza il suo, buttarlo uno in macchina, uno a casa, uno in box e uno alla seconda casa e sicuramente potrete caricare la vostra bluette. Dall'altro, essendo l'alimentatore interno, se si rompe l'alimentatore potrebbe essere un guaio, seppure EcoFlow garantisca comunque i suoi prodotti per ben 5 anni. Dall'altro lato abbiamo invece l'ingresso per il cavo del pannello solare, ma possiamo alimentare e ricaricare questa power station sia tramite la USB-C, ovviamente è consigliato avere una USB-C almeno a 100 W, altrimenti non la ricaricate più, oppure tramite la presa per l'auto. Quindi abbiamo 4 modi di ricarica, ovviamente il più veloce è quello di utilizzare il suo cavo, anche perché si ricarica in poco più di un'ora, 70 minuti. È incredibile quanto sia veloce, forse fin troppo, non lo so, giudicheremo nel tempo. C'è da dire però che la batteria all'interno di tipo LFP viene garantita per oltre 3.000 cicli di ricariche, che nell'utilizzo di tutti i giorni significa ben 10 anni. Quindi secondo me entro 10 anni ne cambierete un bel po', se è una tipologia di dispositivi che vi interessa. Pratico il maniglione, questa roba qui mi è piaciuta molto perché è fisso, non dovete alzarlo, abbassarlo, non vi dà fastidio. Non c'è il pad per la ricarica wireless, secondo me non è una grossa mancanza. Nella parte anteriore abbiamo tre prese AC, il tasto per l'accensione del pratico display LCD, non è molto visibile al sole, ve lo dico subito. Abbiamo poi tre porte USB-A, una porta USB-C, che riceve e fornisce fino a 100 W, per cui se volete collegare il Mac o un PC portatile, potete farlo senza alcun tipo di problema. Dopodiché abbiamo anche la porta per l'accendisigari. Io non so chi utilizzi ancora questa tipologia, però per esempio può essere utile se avete per esempio un frigo d'auto e con lo stesso cavo lo collegate direttamente alla EcoFlow. È piccola, è compatta, ve l'ho detto, 7,8 kg e si riesce a portare molto più facilmente della Bluetti, che invece è un po' più pesante, un po' più ingombrante. Qual è la potenza nominale? 768 Wattora, quindi circa 50 Wattora in più rispetto alla Bluetti. In più abbiamo un'erogazione fino a 800 Watt. Questo significa che in linea teorica, se collegate un elettrodomestico che abbia più di 800 Watt, in linea teorica appunto non dovrebbe alimentarlo. In realtà c'è la modalità X-Boost, che è di default impostata come automatica, che fornisce e aumenta la fornitura di energia fino a 1600 Watt. Quindi per esempio se avete un piccolo asciugacapelli o un piccolo aspirapolvere, potete tranquillamente utilizzarli collegati all'alimentazione. La durata, beh, dipende da quello che ci collegate. Se colleghiamo un dispositivo che assorbe in maniera regolare 100 Watt, con 768 Watt faremo circa 7 ore e mezza di autonomia. Ma questo ovviamente è molto molto variabile. Io vi posso dire che l'ho utilizzata un po' in giro per ricaricare il cellulare, le mie action cam, il mio portatile e in questo caso ci fate anche 3-4 giorni. Quindi se fate il weekend anche in macchina e vi volete portare questa senza essere schiavi magari dell'alimentazione in giro, potete tranquillamente farlo. L'ho utilizzata anche in pista con la mia moto e ci ho attaccato le termocoperte. Ha fatto un ottimo lavoro. Modalità di ricarica tramite il pannello solare. Ve ne parlo subito allora. Il pannello solare secondo me potrebbe migliorare la struttura, nel senso che questa è una valigia per il trasporto e fin qui diciamo che ci siamo. Questi cavi però restano abbastanza sparsi perché la custodia, la valigia diciamo, non è così grande da permetterne il trasporto. Dovreste premere all'interno tuttavia io ve lo sconsiglio perché se doveste danneggiare il pannello solare diciamo che non è un grande deal e come potete vedere una volta aperto abbiamo tutto il pannello solare. Questo è il cavo proprio del pannello solare che va poi collegato ai rispettivi cavi dell'alimentazione. Ce ne sono ovviamente due, sia quello negativo sia quello positivo. Il pannello solare è fatto per essere più appeso che per essere messo a terra nel senso che la valigetta può essere utilizzata per posizionare il pannello solare su un terreno tuttavia non è una soluzione che ho apprezzato tanto perché è abbastanza complessa. Devo dire che il pannello solare è parecchio pesante, ci sta, è un pannello solare però risulta difficoltoso il suo utilizzo in alcuni ambiti proprio perché non ha reali appiglie. È vero, si può appendere magari con delle fascette ma dovete essere in due per appenderlo bene oppure lo potete mettere magari sul tetto del vostro camper quella potrebbe essere un'altra soluzione però è talmente pesante che sul tetto di una tenda non ci sta e non può essere secondo me appeso neanche su una tenda. Tuttavia insomma funziona bene quando c'è sole pieno ricarica effettivamente a 200 watt e questo vi permette di caricare la vostra EcoFlow River 2 Pro in poco più di 3 ore. È fatto bene, avrei gradito qualche cura in più soprattutto per, vedete sono già stanco perché è veramente pesante avrei gradito, ripeto, dei supporti da terra integrati piuttosto che questa valigetta perché poi alla fine avete due cose da gestire sotto questo punto di vista ho apprezzato maggiormente la soluzione di bluetti perché è più comoda e più snella è anche meno pesante e funziona, devo dire, allo stesso modo chi è che nessuno vi ha raccontato questa Power Station ha addirittura un'applicazione in effetti tutta la serie River 2 ha un'applicazione dedicata attraverso cui possiamo monitorare l'autonomia della ricarica residua ovviamente viene aggiornata in tempo reale c'è anche un sensore di temperatura vedete in questo momento mi dice che ci sono 17 gradi possiamo attivare anche a distanza determinate prese tra cui quella per l'auto e quella per le prese AC vedete lo faccio adesso in questo momento si è accesa qui la spia adesso sto in silenzio così sentite l'interruttore che agisce di nuovo per lo spegnimento avete sentito? allo stesso modo posso attivare la presa AC o entrambe vedete? mentre le USB rimangono sempre attive questa è un'altra chicca che mi è piaciuta molto rispetto alla bluetti perché sulla bluetti dovete ogni volta attivare disattivare si spengono da solo in automatico insomma non è un funzionamento tanto lineare ha delle logiche un po' complesse qui invece le USB-C sono sempre attive dopo tutto è una cosa intelligente il fatto che tu per caricare un dispositivo tramite USB non abbia bisogno di premere tasti o altro ma devi semplicemente inserire il tuo cavetto USB nella confezione c'è l'adattatore anche AC insomma per le prese dell'automobile e abbiamo poi un bel sistema di dissipazione qui infatti abbiamo nella parte sinistra la presa d'aria mentre qui viene espulsa tramite una ventolina che si intravede l'aria calda e devo dire che non ho notato problemi di surriscaldamento anche utilizzandola sotto al sole ma ovviamente è una cosa che non è tanto consigliata se c'è una cosa che questa tipologia di batteria teme non è i cicli di carica, le cariche parziali la tacca stacca è proprio la temperatura per cui siate accorti non lasciatela direttamente sotto la luce del sole così come non lasciatela in posti completamente freddi una temperatura tra i 15 e i 25 gradi per la conservazione è direi ottimale cosa altro c'è da dire? beh l'applicazione mi permette poi anche di regolare alcuni parametri per esempio possiamo addirittura regolare la velocità della ricarica tramite l'alimentazione possiamo andare a regolare anche lo spegnimento dello schermo quanto tempo deve passare prima che venga staccata la ricarica volendo possiamo anche non interromperla mai insomma possiamo personalizzarla come meglio crediamo è un'alternativa secondo me con l'unico contro è la struttura del pannello solare questo non significa che il pannello solare non funzioni anzi funziona molto bene ma è secondo me complesso gestirlo su un piano su un prato appenderlo perché è davvero tanto pesante e ingombrante la power station però è fatta davvero benissimo è il fatto che l'alimentatore sia all'interno e quindi voi vi dobbiate portare semplicemente un cavo è secondo me un punto di forza non da poco così come è un punto di forza il fatto di poter collegare di fatto tre tipologie di alimentazioni e quindi essere veramente indipendenti perché due comunque nella vita di oggi iniziano ad essere un po' strette anche il prezzo mi sembra parecchio competitivo insomma vi lascio il link qui sotto nella descrizione e fatemi sapere voi cosa ne pensate e cosa preferite tra la bluetti e la eco flow io personalmente ho gradito di più la eco flow ma è una mia opinione per questo video è davvero tutto ciao ciao